a cosa servono i russi bella domanda a me piacciono le domande l'ultimo romanzo che ho scritto parla di Anna Akhmatova mentre lo stavo scrivendo una mia amica mi ha chiesto di chi era moglie già Anna Akhmatova una bella domanda alla quale ho risposto guarda Anna Akhmatova ha avuto tre mariti ma non era lei a essere la loro moglie erano loro a essere i mariti di Anna Akhmatova aveva un carattere Anna Akhmatova che non era mica tanto bionda come dicono a Bologna quando da ragazza al padre un ingegnere navale che si chiamava Andrea Igorienka saputo che la figlia scrivava delle poesie le ha detto non immischiare il nome della nostra famiglia con queste cose poco dignitose lei gli ha risposto non mi serve il nome della tua famiglia e ha scelto come pseudonimo Akhmatova nome di una principessa tartara suava da parte di madre una discendente di Ahmad Khan diceva Anna Akhmatova che era un diretto discendente di Gengis Khan secondo lei questo dice un suo amico Josip Brodsky è stato il suo primo verso di successo Brodsky poi sarebbe diventato premio Nobel era uno che aveva una discreta autostima ed Anna Akhmatova diceva che ogni incontro con lei era un incontro con qualcuno di significativamente migliore di te qualcuno che con la sola intonazione della voce si trasformava in un uomo sapiens una cosa strana è che il nome della la famiglia dell'Ahmatova Gorienk ha come radice la parola Gorie che significa dolore in russo ci sono due modi in russo di dire dolore una è Gorie e l'altro è Bol e io credo che Bol sia più fisico e Bol è più spirituale però insomma sono si mischiano queste cose ecco questa cosa qua il dolore è una cosa che ha molto a che fare con la Russia parlare di Russia in questo periodo fa male per chi come me è appassionato di letteratura russa questo è stato un anno molto doloroso un anno e mezzo ormai molto doloroso ancora più doloroso per via del fatto che il nostro dolore rispetto al dolore vero scatenato dalla guerra non non valeva niente veniva quasi vergogna a dire io sto male per questa cosa ho detto questa cosa a Roma alla presentazione del libro alla fine mi si è avvicinato un signore grosso vestito di nero mi ha preso il braccio qua e mi ha detto in russo vasha bol maia bol il tuo dolore è il mio dolore questo signore si chiama Baris Pasternak e ha una faccia che una poetessa russa Marina Zietaeva diceva che era la faccia di un arabo e del suo cavallo contemporaneamente è una faccia bellissima secondo me Baris Pasternak non è uno dei miei scrittori preferiti c'è una c'è una una musicalità che non so non mi entra nelle orecchie ma quando quest'anno sono stato al museo Akhmatova ho visto una mostra di manoscritti mi ha molto colpito il manoscritto di una poesia di Pasternak che ha invece molto a che fare con me io questa cosa la dico spesso e siccome vengo spesso al circolo dei lettori forse l'ho detta anche l'ultima volta che sono venuto e forse anche la penultima e io io ho quest'anno io sono nato nel 1963 quest'anno ho compiuto 60 anni e sono tecnicamente rispetto alle nuove tecnologie un boomer ecco no cioè sono uno che non è capace e intanto che scrivevo questo romanzo dovevo mia figlia quest'anno ha compiuto 19 anni adesso appena iscritto all'università quando scrivevo il romanzo faceva ancora le superiori io dovevo pagare una cosa per mia figlia per la scuola mia figlia in quel sito che si chiama pago pa credo si chiami così pago pia insomma quello lì che si paga la pubblica e io dovevo pagare e ho pensato non ce la farò mai non riuscirò a pagare questa cosa e ho provato e non ci sono riuscito ho provato una seconda volta non ci sono riuscito ho provato una terza volta e ci sono non so come mai ma ci sono riuscito ero così contento che ho scritto questa cosa in rete su su twitter e e ho raccontato questa sciocchezza e alla fine ho detto come nelle favole russe no nelle favole russe i protagonisti per fare una cosa devono rifare tre volte no la prima volta non gli riesce alla seconda non riesce al terza sì come me e e e e uno sotto ha commentato ma perché russe ma basta con questo russo ma perché non ti rassegni ecco perché non ti rassegni che bella domanda perché non mi rassegno e e perché non studio per esempio il finlandese no che una lingua a me piacciono le cose difficili finlandese una lingua abbastanza difficile a 19 casi mi hanno detto no e vabbè io ho 60 anni ma andare a 70 anni una bella con se mi ci metto una bella conversazione in finlandese riesco a sostenerla e e allora perché non mi rassegno mi sono mi sono mi sono chiesto mi sono risposto che mi sono successe tante cose in questi 60 anni ma la cosa più grossa che mi è successo e adesso mi ricordo che qui l'ho raccontata a torino perlomeno a torino spiritualità l'anno scorso due anni fa quando il tema era la pelle e ho raccontato del dell'incidente che ho avuto l'illustione e la cosa più grossa è stata quella lì l'ustione io mi sono ustionato avevo nel nel nell'aprile del 1999 ho fatto un incidente in macchina avevo una due cavalli la macchina ha preso fuoco io sono rimasto dentro mi hanno tirato fuori tre ragazzi fantastici che mi hanno salvato la vita e avevo però mi hanno tirato fuori perché io facevo resistenza e mi hanno tirato fuori e che mi ero bruciato nel 30 per cento del costo cioè ustioni terzo grado mi mancava il 30 per cento della pelle quando poi mi hanno portato in ospedale ed è stata l'esperienza più dolorosa della mia vita e perché i primi ero in prognosi riservata i primi giorni perché il problema grosso erano le infezioni no le possibili infezioni e e a me mancava il riparo della pelle anche quello nel 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 in un terzo del corpo e tutti i giorni mi dovevano lavare e dopo avermi lavato mi vendavano ero sembrava una mummia e il giorno dopo mi doveva rilavare quindi dovevano staccare le bende che col sangue col pus si erano attaccate staccare faceva un male che io non ho mai provato un male del genere e mi dava la morfina ho scoperto che mi piace moltissimo la morfina è un'esperienza che mi sento di considerare sono simpaticissimo dopo dopo che mi hanno iniettato una dose di morfina ma anche con la morfina mi veniva a strappare i miei capelli e lì io tutti i giorni a me veniva in mente quando mi riportavano dal lavaggio alla stanza al mio letto e io non potevo camminare mi trasportavano con una specie di c'era una una specie di piccola gru no mi mettevano una fascia sotto la schiena e mi spostavano e a me in quel momento lì che era un momento di sollievo no perché il dolore un po era passato e fino al giorno dopo non mi avrebbero fatto così male e a me tutti i giorni mi veniva in mente una frase un verso di Pasternak di quella poesia lì di Pasternak che io avevo letto dieci anni prima alla fine di un romanzo che non mi era piaciuto neanche tanto romanzo del dottor givago la poesia alla fine del dottor givago ci sono i versi di givago la prima poesia si intitola l'amleto e l'ultimo verso è gisn prajit nipoglio e piritti che significa vivere una vita non è attraversare un campo io tutti i giorni mi dicevo vivere una vita non è attraversare un campo e quel verso lì che mi veniva da così lontano mi ha spiegato come ero messo quel verso lì sono io io se rinuncio alla russia rinuncio a me stesso finlandeso studieranno poi degli altri io vado antico russo ho pensato ecco a me l'ho detto tanto tante volte mi piacciono due cose che fanno piangere la letteratura russa e le partite del parma in agosto sono stato a pietroburgo per scrivere un libro e quando era pietroburgo è cominciato il campionato di serie b e c'era la prima partita che era parma ferralpi salò e io ho cercato con in tutti i modi di vederla ho scoperto che dalla russia è impossibile vedere la serie b allora l'ho ascoltata per radio radio parma nel mio albergo nel centro di san pietroburgo in un albergo fantastico vicino a ulizza rossi sulla fantanca che sentivo questo questo radio cronista con accento parmigiano che mi diceva che aveva vinto 2 a 0 ho scritto questa cosa sui social e una signora ha commentato ma davvero ci sono dei turisti in russia e una un'altra signora le ha spiegato che io vado in russia tutti gli anni che di solito sui social racconto quello che faccio e quella signora di prima che aveva chiesto se c'erano davvero dei turisti ha risposto ma è opportuno che bella domanda ecco questo signore qua è joseph prosky premio nobel per la letteratura che abitava a pietroburgo sul lichini però poco distante da dove abitava annahmato a loro erano amici e poco distante dalla sede del kgp e poco distante dal più grande carcere dell'unione sovietica si chiama dei croci dove per 17 mesi è stato recluso il figlio di annahmato e a pietroburgo quest'anno mi è successa una cosa preziosa secondo me e l'ultimo giorno che eravamo lì siamo andati al museo broschi nella casa dove abitava lui l'hanno aperto nella casa dove abitava broschi prima di lasciare l'urs e diventare premio nobile un appartamento in condivisione cioè all'inizio quando c'è stata la rivoluzione nel 1917 gli appartamenti nobili con tante stanze no lì sono diventati appartamenti statali no e allora gli assegnavano una stanza per ogni famiglia e cucina e bagno in comune broschi abitava in uno di questi appartamenti qua con la sua famiglia e c'erano altre tre famiglie e lì hanno aperto un museo io in rete è comparsa la notizia che l'hanno aperto nel 2015 e io nel 2015 la prima volta con il circolo dei lettori ho fatto il primo viaggio in Russia sui luoghi della letteratura che si chiama google maps che mi sembra un titolo bello e ne ho fatti poi tanti e appena finisce la guerra voglio ricominciare a fare e avevo letto su internet che gli orari che il io ero aperto che gli orari c'erano anche gli orari e ho portato i 25 italiani che erano con me al numero 24 degli tieni praspietto sotto l'appartamento lo abitavano i broschi che erano tre insieme altre otto persone altre tre famiglie che dovevano condividere con loro appunto bagno e cucina il bucato scrive broschi veniva steso nei due corridori che collegavano le stanze alla cucina e ognuno conosceva a memoria le mutande dei propri vicini che non so è opportuna questa cosa qua allora nel 2015 quando sono arrivato con le 25 persone ho scoperto che il museo non l'avevano ancora aperto in Russia succedono queste cose e forse succedono delle volte anche in Italia ma in Russia mi sembra di più dopo tutti gli anni che tornavo in Russia chiedevo se era aperto il museo non era aperto quest'anno era aperto sono andato siamo entrati salutato chiesto in russo se si poteva visitare il museo c'era una ragazza ma chiesto in russo se avevamo prenotato le ho detto in russo che non potevamo non ci funzionano le carte di credito le ho detto siamo italiani questa è una controsanzione siccome ai russi non funzionano le carte di credito in Italia agli italiani non funzionano in Russia e se non ci funzionano le carte di credito siamo italiani l'ho detto e lei mi ha detto lo so e io ho pensato ecco te parli con accento con evidente accento italiano sono rimasto così male e lei però ha aggiunto yavas citaio che significa io la leggo si chiama victoria studia italiano e legge i miei libri ero così contento questa è stata una delle più grandi soddisfazioni da quando ho cominciato a scrivere ho messo questa storia su internet e una persona su twitter ha commentato però la russia ha invaso l'ucraina e questo è un dato di fatto ecco questi sembra che non c'entrano niente invece c'entrano sono johnny depp come sapete meglio di me e sua moglie amber heard credo si dica scusate il mio accento e la notte per io tutte le volte che vado in russia mi viene l'agitazione e l'ansia e la notte prima di partire quest'anno in agosto non riuscivo a dormire ero a casa di un di un mio amico claudio sforza che è un bravissimo fotografo che ha trattato queste foto ed è l'autore della foto che avete visto all'inizio quella dove sono io su li tieni praspietti quella strada dove abitava broschi e allora ero a casa sua e allora ho visto una serie televisiva tre puntate di una serie che raccontava il processo tra johnny depp e amber heard del quale io non sapevo praticamente niente perché dal febbraio del 2022 io ascolto solo notizie che vengono da là è stato molto interessante e io l'unica volta che avevo sentito parlare di di questo processo l'avevo sentito parlare da un canale l'avevo sentito insomma citare da un canale russo dal piervi canal che è praticamente che è un canale governativo che è l'equivalente dei di rai uno tipo no e avevano quando c'era stato l'udienza finale avevano dato la notizia agli ascoltatori insomma i telespettatori russi e hanno detto c'era un presentatore che era sembrava molto contento e aveva detto che erano stati condannati tutte e due per reciproca diffamazione lui aveva detto deve pagare due milioni di dollari a lei per diffamazione lei deve pagare 15 milioni di dollari a lui per diffamazione questa è la dimostrazione ha detto quel presentatore che in occidente mentono tutti raccontano delle gran balle in occidente ecco in russia ci sono probabilmente molte persone che credono a quel presentatore che pensano che noi in occidente mentiamo tutti e in occidente ci sono probabilmente molte persone che pensano che andare in russia sia poco opportuno e che sono convinte che se si affronta l'argomento russia da qualsiasi parte lo si prenda si debba dire però la russia ha invaso l'ucraina e questo è un dato di fatto ho parlato a pietroburgo con un ragazzo che è contrario a questa guerra che ha protestato contro la guerra che è stato in prigione nove giorni nel febbraio del 2022 perché tutti quelli che scendevano in strada con un cartello gne fai gne li prendevano e li portavano in prigione stavano lì nove giorni li trattavano bene gli ho raccontato che da noi in occidente a madrid mesi fa c'è stata una riunione della nato i giornalisti hanno protestato per il fatto che nel menù c'era l'insalata russa lui ha scosso la testa detto che coglioni l'insalata russa in russia la chiamano salat alivie dal nome del cuoco di origine belga nel cui ristorante è stata inventata negli anni 60 e l'ottocento e ho poi detto a quel ragazzo che io mi aspetto da un momento all'altro che vietino le montagne russe e che i russi rispondano con delle controsanzioni e vietino le montagne americane in russia le montagne russe si chiamano montagne americansche gorghi montagne americane un disastro per i giostrai ecco noi claudio sforza alessandro freno e io in quei giorni lì abbiamo provato a capire cosa significa per i russi la guerra e abbiamo fatto un documento stiamo lavorando un documentario abbiamo intervistato una libraia nella cui libreria eravamo stati anche l'anno scorso e l'anno scorso c'era in vetrina uno slogan sovietico miru mir pace al mondo quest'anno era rimasta solo una parte mir pace abbiamo chiesto perché la libreria ci ha spiegato che avevano sparato alla vetrina all'altezza della scritta e che loro i librai avevano messo la notizia in rete avevano aperto una sottoscrizione e in due ore avevano raccolto il necessario per sostituire il vetro e avevano deciso di non rimettere la prima parte dello slogan come come segno dei tempi che viviamo ha detto la libraia abbiamo intervistato un celebre illustratore 92 n e gli abbiamo chiesto se è d'accordo sul fatto che l'arte non dovrebbe avere confini e se non trova che in questi ultimi anni i confini tra occidente e russia siano più sensibili più reali più veri e come vive lui questa situazione e lui ci ha risposto che è d'accordo che un artista non conosce confini né spaziali né temporali e che la differenza con la politica è che la politica è costretta ad avere a che fare con il presente e che lui è molto dispiaciuto per il fatto che Putin per questa faccenda non si sia consigliato con lui e che lui avrebbe avuto delle cose da dirgli e io gli ho chiesto quali sono queste cose che gli avrebbe consigliato e lui mi ha detto mi ha citato una fiaba di Pushkin e più esattamente la frase zarstui gyojana baku che significa governa stando coricato non sforzarti troppo stai tranquillo questo signore si chiama daniel karmes è uno scrittore è la prima traduzione che ho fatto è un'antologia delle opere di daniel karmes che si chiama disastri lui è uno scrittore straordinario secondo me che che è morto nel 42 e negli anni 30 scriveva delle cose che sembra di leggere beckett o ionesco ma prima di beckett e ionesco e abbiamo intervistato il biografo di questo di daniel karmes daniel karmes è morto di fame in un ospedale psichiatrico di leningrado nel febbraio del 42 durante l'assedio di leningrado era stato arrestato perché era stato accusato di aver detto che la guerra l'avrebbero vinta i tedeschi mi ho chiesto al nostro interlocutore se pensa che il drammatico caso che si chiama valeri shubinski che il drammatico caso di karmes si possa ripetere e lui ci ha risposto pensavamo che non potesse ripetersi adesso sappiamo che può ripetersi anni fa un italianista russa che si chiama anna iampols che mi ha chiesto come mai mi piaceva tanto la russia e io senza pensare sono quelle risposte che ti vengono le risposte la russia mi piace perché fa paura ecco quest'anno tra tutte le persone con le quali abbiamo parlato che sono ce ne sono poi anche altro naturalmente oltre a quelle che avevo detto ce n'è una con la quale non siamo riusciti a parlare la direttrice dell'ente che ci ha invitato il museo russo che è uno straordinario museo è il museo con la più grande collezione d'arte russa al mondo sul quale io devo scrivere un libro e noi eravamo stati invitati proprio da lei che lo sapeva che noi e lei ha cercato in tutti i modi riuscendoci di di negarci il proprio aiuto e non siamo riusciti siamo andati al museo russo pagando il biglietto cioè invitati e alla fine di questi otto giorni che siamo stati in russia noi avevamo l'impressione che noi alla direttrice del museo russo le facevamo paura c'è una poesia di raffaello baldini si intitola quelli che corrono raccolta di uno che scappa perché gli corrono dietro e si volta a guardare quelli che gli corrono dietro gli sembra che abbiano dei coltelli non è sicuro ma così paura che corre fortissimo e li semina ma continua a correre forte lo stesso e dopo un po davanti a sé vede la gente che corre che sembra che stia scappando da lui e uno di quelli che scappano da lui si volta indietro e a lui sembra di riconoscere uno di quelli che lo rincorrevano prima ecco noi la russia mi sembra che siamo messi così in un gioco di specchi di paure di contropaure di sanzioni e di controsazioni di idiozie di controidiozie che sarebbe ora che finisse presto ma che presto non finirà ho paura a me ultimamente anche prima ma ultimamente mi sembra di più mi succedono delle cose stranissime quest'anno per esempio non so come mai mi hanno invitato a ravenna a tenere l'orazione solenne in occasione del 702esimo annuale della morte di dante io quando mi succedono queste cose qua a me mi veniva da dire ma siete sicuri ma proprio non parlate con me state parlando perché non so niente di dante e però sono stato bravo non gli ho detto niente e sono andato a fare a fare questa cosa ero molto agitato chi fa il nostro mestiere di queste agitazioni però quella lì è stata davvero una delle cose più più che mi ha cioè io pensavo sarà un disastro normalissimo e oltretutto prima che cominciassi a parlare il sindaco di ravenna ha citato una frase di un mio predecessore uno che era stato chiamato qualche anno fa a tenere l'orazione solenne in occasione dell'annuale di dante era benedetto croce e io pensato andiamo bene e io l'ho intitolata i sandali di dante e c'è questo scrittore russo che si chiama serghii davlatov è uno scrittore che è nato ha vissuto è uno scrittore di leningrado lui viveva nel centro di leningrado era molto amico di broschi quando davlatov è morto broschi ha scritto una cosa dicendo che nella nella loro agenda telefonica allora c'erano le agende quelle di carta l'ottanta per cento dei numeri erano uguali erano proprio amici 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 e davlatov è uscito la unione sovietica non perché era perseguita ma perché non lo facevano pubblicare no è andato negli stati uniti e negli stati uniti ha cominciato a pubblicare e pian piano i suoi libri sono dei libri bellissimi che sono se non li avete letti sono pubblicati in italiano da sellerio e curati da laura salmo vi consiglio di cominciando magari dalla valigia e davlatov quando ha cominciato quando i suoi libri ha cominciato a circolare ha dei problemi con la propria notorietà letteraria no e quando vado in un posto e mi riconoscono diceva davlatov mi stupisco quando vado in un posto e non mi riconoscono diceva mi stupisco sono sempre stupito diceva ecco io un po anch'io devo dire quando per esempio ho proposto a Mondadori un romanzo sulla vita di Fiodoro Dostoevsky allora mi ha risposto mi ha detto di sì e a me anche lì mi viene a dire siete sicuri voi veramente pensate che io sono capace di scrivere un romanzo sulla vita di Dostoevsky sicuri sicuri magari volete pensarci un altro po ma anche lì quando non sono stato bravo non ho detto niente e anche con Silvia Masi quando mi ha invitato a Ravenna non ho detto niente e io il mio mestiere quando mi chiedono che mestiere faccio io dico una cosa vera credo che scrivo dei libri no non mi piace dire faccio scrittore non mi piace scrivo dei libri è una cosa vera e per il fatto di scrivere dei libri e ho cominciato a scrivere nel 96 la letteratura italiana contemporanea quella dagli anni 90 in poi la conosco abbastanza bene conosco di persona anche molti dei protagonisti è una cosa normalissima ci incontriamo nei festival ci salutiamo ci leggiamo ci piacciamo ci dispiacciamo sui classici io devo dire sono meno preparato io sono laureato in lingua letteratura straniera specialista in lingua letteratura russa e sono piuttosto monomaniaco come carattere solo che oltre che appassionato di lingua letteratura straniera sono uno che scrive dei libri in italiano e mi sembra una cosa evidente pacifica che uno che scrive dei libri in italiano oggi 702 anni dopo la morte di dante con dante deve avere a che fare quindi io anch'io con tutta la mia monomania ho detto la ravenna ho avuto a che fare con dante sia direttamente che di sponda perché alcuni degli scrittori russi con i quali ho avuto a che fare hanno avuto anche loro a che fare con dante mi hanno fatto vedere dante da lontano e da lontano le cose non è che si vedano necessariamente peggio anche quando è un lontano che oggi sembra fosse lontanissimo la russia ecco io se dovessi definire la mia relazione con la russia direi che sono un appassionato di letteratura russa non sono un esperto sono troppo preciso per essere un esperto e mi sono anche inventato una cosa che ha anche questa che fare col circolo dei lettori un po di anni fa io mi hanno chiesto di fare un una rassegna sulla letteratura russa e io ho preso come come titolo ho scelto gli inabbracciabili che viene da una frase di un poeta russo finto sconosciuto cioè finto che erano altri che scrivevano col suo nome chiama kuzma purtkovi e c'ha degli aforismi singolarissimi come non si abbraccia l'inabbracciabile che c'ha ragione non si può abbracciare e secondo me la letteratura russa è così è inabbracciabile cioè non uno che ti dice sono esperto di dostaieschi uno che mi dice così io subito diffido di quello perché è come dire io sono un esperto della vita e della morte ecco mi sembra e io comunque al di là delle mie diffidenze io non sono un esperto sono un appassionato e mi sento ancora a 60 anni uno studente e mi piace attribuirmi la meravigliosa frase della chanson de vieux amants di Jacques Brel e finalmente finalmente il non fa lui bien du talent pour être vieux sans être adulte che è stata tradotta in una canzone di Battiato che dice c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti ecco io quel talento lì di non diventare adulto devo dire ce l'ho con tutto il modestamente ce l'ho e quando appena tornato dalla Russia io sono andato a un festival con Daccia Maraini ma invitato insomma il festival di Daccia Maraini ad Arona sul lago maggiore presentare un libro che ho scritto su Anahmato e sono stato quando cosa ho scritto ma non capisco quello che ho scritto ah ecco sì adesso mi ricordo e io sono stato tante volte praticamente tutte le volte che vado a Pietroburgo sono stato una ventina di volte io vado al museo Ahmato nel centro sulla Fontanca una casa bellissima dove ha abitato lei e tutte le volte spesso insomma faccio il giro che mi raccontano delle cose nuove e l'anno scorso siccome dovevo scrivere un libro su Anahmato mi hanno fatto vedere anche io ho visto e lei studiava Dante in studiava l'italiano per leggere Dante in originale e io ho visto i libri di Dante con le indicazioni di Anahmato con i segni a matita dell'Ahmato anche un suo amico che si chiamava Maldestam un grande poeta anche lui dopo ne parliamo e mi hanno raccontato che l'Ahmato che è vissuta a lungo è morta a 77 anni nel 66 negli anni 50 un gruppo di studenti occidentali la sono andata a trovare hanno visto sto libro in italiano ed hanno chiesto ma lei legge Dante in originale e lei ha risposto non faccio altro e a me viene in mente questa cosa vi sto raccontando questa cosa perché a Arona via la presentazione del libro su Anahmato alla fine siamo andati a cena come succede e è arrivato un signore vestito bene insomma vestito un po' da sindaco e ha salutato Dacia Maraini era molto contento di e Dacia Maraini me l'ha presentato era l'ex sindaco di Arona che adesso era diventato parlamentare e ha presentato me a lui e gli ha detto questo è Paolo Nori abbiamo appena presentato un libro su il suo romanzo su Anahmato e questo signore ha fatto una faccia come se non sapeva chi era Anahmato perché è una cosa normale ecco e io gli ho detto l'ho detto è un grande poeta russo io sono appassionato di letteratura russa e lui ha cambiato espressione ma ha detto queste sono delle cose che in questo periodo bisogna dirle un po' a bassa voce e io gli ho detto bene io non faccio altro che dirle ad alta voce non faccio altro come Anahmato perché forse ha ragione quel parlamentare certe cose in certi periodi bisognerebbe dire la bassa voce solo che io a pensare a me che dico a bassa voce che mi piace la letteratura russa mi viene in mente un'espressione che mi diceva mia nonna Carmela una parola che mi dice che usava con me spesso mia nonna Carmela in dialetto parmigiano è reputasio che in italiano è reputazione lei me lo diceva in senso negativo mi dice ad gemi ad reputasio cioè non hai reputazione ecco io avrei proprio la sensazione di non avere reputazione se nascondessi se rinnegassi la letteratura russa la cultura russa la lingua russa alle quali ho dedicato con la passione della quale sono capace la maggior parte della mia vita farebbe bene mia nonna Carmela a dirmi e queste tutte queste cose io le ho dette là a Ravenna e arrivato a questo punto gli ho detto che voi mi rendo conto mettendomi nei vostri panni voi state ascoltando uno che sta tenendo un discorso solenne su Dante invece di parlare di Dante parla di sua nonna Carmela cosa c'entra tua nonna Carmela con Dante potreste chiedermi e io vi risponderei che mia nonna Carmela con Dante c'entra tantissimo secondo me ecco a questo punto ci vorrebbe una foto di mia nonna Carmela ma io siccome a God la reputazione non ho messo la foto di mia nonna Carmela ma ho messo la foto di Modest Mussorgsky che è quell'autore del quale avete sentito all'inizio il Baris Gadunov ed è io so pochissimo di musica con la mia monomania ma trovo che il Baris Gadunov in genere la musica di Mussorgsky e Mussorgsky ha avuto una vita anche lui incredibile perché faceva parte del gruppo dei primi compositori russi in un periodo in cui fare il compositore musicale non era ancora neanche un mestiere si chiamava Maguccia Yakushka il possente gruppetto possiamo dire e lui era probabilmente il più dotato è quello che aveva fatto e quando c'è stata la prima del Baris Gadunov al teatro Marinsky di Pietroburgo ha avuto uno straordinario successo però i suoi amici gli altri quattro l'hanno criticato gli hanno detto che era un analfabeta musicale e lui è rimasto malissimo e poi ha cominciato a bere o forse aveva già cominciato prima insomma è una storia molto triste quella di da un certo punto di vista e c'è uno dei suoi colleghi si chiama Rimsky-Korsakov che ha riorchestrato tutte le cose per renderle più grammaticate, più corrette e a sentire anche il Baris Gadunov è come se ci avesse spruzzato sopra una lacca cioè il Baris Gadunov di Rimsky-Korsakov sembra una signora che è andata dalla pettinatrice che ha questa cofana che per qualche ora lotta contro la forza di gravità che sta in piedi ma invece recentemente poi sono state recuperate le partiture recentemente nel novecento le partiture originali di Musoski e adesso anche l'ultima prima della scala c'era il Baris Gadunov di Musoski e queste che venivano prese per sgrammaticature sono così c'è viene freddo a sentire la musica di Musoski ti viene freddo dentro era uno che era avanti come Rimsky ed è di una modernità stupefacente uno dei versi più commoventi più belli e più potenti di Dante per me è l'ultimo verso della Divina Commedia l'amor che muove il sole e le altre stelle che è un verso che mi tocca che mi scuote che mi ferisce anche se è centrato su una parola amore che io non dico mai ci sono queste parole felicità per esempio o amore con tutti i suoi derivati il verbo amare sono parole che io non ho mai capito bene la felicità per esempio io una volta ho letto che Gianni Celati ha scritto che la felicità è un concetto americano sono stato contento perché io non ho mai voluto essere felice io non ce l'ho nella testa il concetto di felicità per non parlare dell'amore che mi fa un po' impressione applicato a me lo capisco quando lo dice Dante ma dirlo io il verbo amar ti amo ecco io ti amo è una cosa che non ho mai detto a nessuno e ho paura che se mai lo dicessi seriamente a qualcuno ti amo mi crollerebbe la faccia dovrei porre accogliere i pezzetti della mia faccia sparsi per tutta la stanza io non sono capaci di dire ti amo e per degli anni mi sono chiesto perché e poi ho capito forse perché ho queste idiosincrasie mi ha detto parmigiano la felicità e l'amore non ci sono non si dice in parmigiano sono stato felice si dice sono ste be e non si dice in parmigiano ti amo si dice a tuoi be ti voglio bene cioè è come se la mia lingua mi sono accorto avesse la coda o le radici nella lingua di mia nonna che era una signora che aveva fatto la terza elementare e che l'italiano non lo parlava benissimo cioè lo parlava ma c'erano delle parole non so il boiler lei non riusciva a pronunciarla questa parola il boiler lei l'ha chiamato bolide per tutta la vita non aveva gli organi formatori in grado di pronunciare il ditongo o i e una volta ho raccontato questa cosa a un ragazzo di Parma e lui mi ha detto adesso capisco perché mia nonna chiama mia moglie Claudia mia nonna Carmela usava delle espressioni non so diceva è passata un'ambulanza sirene spietate che va a ragione sono spietate era eloquente anche senza aver studiato mia nonna non aveva potuto studiare era la sedicesima di diciassette fratelli e sorelle era andata a servire a casa di un generale a undici anni e mi diceva Paolo a casa nostra c'era una miseria che quando siamo diventati poveri abbiamo fatto una festa e io è un limite certo ma sono così contento di aver le radici nella lingua di mia nonna e sono contento del fatto che il primo libro che ho pubblicato comincia con mia nonna la prima frase che ho pubblicato nella mia vita è mia nonna Carmela si chiamava Carmela e io ho detto Lara Venna sono onorato del vostro invito anche solo per il fatto di poter pronunciare il nome di mia nonna Carmela Dallasta in un contesto così nobile come questa solenne prolusione in memoria del nostro più grande poeta a questo punto ho detto sempre là voi potreste dire beh siamo contenti che tu sei contenti di pronunciare il nome di tua nonna Carmela Dallasta in un contesto così nobile ma ti sembra averci spiegato cosa c'entra tua nonna Carmela Dallasta con Dante Alighieri e io potrei rispondere ho detto no non mi sembra ve lo spiegare ma adesso ve lo spiegare ecco la letteratura russa questa cosa enorme nasce tardissimo un equivalente russo della Divina Commedia è Evgenia Nyev anche questa è una cosa che ho raccontato io dico sempre le stesse cose però mi piace la Nyev è come la Divina Commedia e solo che c'è una differenza che se io dico la storia della lingua italiana e la storia della lingua russa sono come ribaltate la lingua italiana appunto mia nonna Carmela e i suoi contemporanei che erano la maggior parte la loro lingua madre non era l'italiano era il dialetto parmigiano mia nonna sua mamma non la chiamava mamma la chiamava ma ecco e all'epoca di Pushkin negli anni 20 dell'ottocento Pushkin sua mamma non la chiamava mamma la chiamava mamma perché i nobili quelli che sapevano leggere e scrivere parlavano in francese tra di loro quelli che sapevano la lingua la lingua russa i cultori della lingua russa i portatori i madrelingua veri erano analfabesi erano i servi della gleba c'è questa situazione stranissima per cui in Russia non ci sono i dialetti non so perché ma il russo di Moschia di Pietroburgo che sono a 700 km è identico è anche quello di Vladivostov cioè non ci sono i dialetti e la lingua russa è una lingua parlata da secoli e l'italiano è una lingua parlata da decenni cioè proprio e l'italiano è una lingua che è calata dall'alto mentre la lingua russa Pushkin aveva una gnagna la gnagna è una figura della cultura russa che è la nutrice quella che allatta perché le nobili non allattavano e che stava con i bambini la tata la badante cioè non la badante la tata ecco e lui lui che non parla mai lui non era non aveva dei sentimenti molto forti rispetto ai componenti della sua famiglia non gli piacevano ma era molto affezionato a questa signora che era una serva della gleba era una schiava si chiamava Arina Radionovna e non aveva neanche un cognome ed era quella che gli aveva insegnato il russo e gli raccontava le fiabe quando era piccolo che sono fiabe che lui poi ha messo in musica in versi e che sono una delle pagine bellissime della letteratura russa e Dostoevsky dice se non ci fosse stata Rina Radionovna cioè questa signora è stata al tramite tra questa lingua meravigliosa che si parla da millenni e la letteratura cioè Pushkin ha preso questa lingua e col suo talento ha fondato una letteratura Dostoevsky dice se non ci fosse stata Rina Radionovna non ci sarebbe stato neanche Pushkin e non ci saremmo stati neanche noi e a Pskov che è la città dove c'era la tenuta di Pushkin hanno fatto un monumento a Rina Radionovna con Pushkin indietro che le tiene una mano sulla spalla e questa signora è vestita proprio da contadina col fazzoletto in testa e gli stivali fatti di corteccia di Betù sembra mia nonna Carmela ed è la madrina della lingua russa e hanno fatto bene e io una volta ho pensato sto presentando un libro tanti anni fa ormai e mi è venuto in mente che l'inizio della letteratura russa cioè l'equivalente di nel mezzo del cammino di nostra vita che è del 1820 nell'inizio degli anni 20 Pushkin comincia a scrivere un romanzo in versi che si chiama Evgenia Negin e che comincia così che significa mio zio che ha degli ottimi principi quando si è ammalato per davvero ha pensato di farsi curare da tutti e non poteva avere il miglior pensiero ecco quella frase lì se io la dico a un bambino di 5 anni che non è mai andato a scuola un bambino russo lui capisce perfettamente e mi è venuta in mente se io prendo un'opera italiana contemporanea mi è venuta in mente il 5 maggio di Manzoni la morte di Napoleone 1821 e l'inizio e fu siccome immobile dato il mortal sospiro stette la spoglia in memore orba di tanto ospiro se lo dico a un bambino italiano di 5 anni cosa capisce quel bambino lì questa cosa è successa 14 anni fa e lo so perché mia figlia aveva 5 anni adesso ne ha 19 e siccome mia figlia aveva 5 anni io quel giorno lì ho detto stasera vado a casa prendo mia figlia e faccio la prova poi sono tornato a casa mi sono dimenticato alla presentazione successiva ho rifatto la stessa cosa ho finito lo stesso modo sono tornato a casa mi sono ridimenticato la terza volta come nelle fiave russe mi sono ricordato ho preso mia figlia le ho detto adesso ti dico una cosa e te mi dici cosa capisci lei mi ha detto va bene le ho detto e fu siccome immobile dato il mortal sospiro stette la spoglia in memore orba di tanto ospiro cosa hai capito lei ci ha pensato un po' e poi mi ha detto è che lui era lì immobile che giocava a memory respirando che è una bella traduzione del Manzoni ecco la Nienghin quindi è come la Divina Commedia e io come la Divina Commedia io l'ho letto diverse volte e la prima volta l'ho letto tutto rinfiato senza anche quello che non capivo così come Giorgio Manganelli ha letto la Divina Commedia leggendo la Divina Commedia scrive Manganelli tutto rinfiato mi rendevo conto di contrastare un'antica malsana usanza ma di meglio non potevo fare la mia sensazione è stata questa che la prima lettura dovrebbe essere appunto così tutto di fila e capire quel che si può capire il resto verrà più tardi leggendo tutto insieme non solo non si può capire tutto ma non è opportuno Dante è un enigmatico almeno per una volta accettiamolo per quello che è ha i suoi motivi per non farsi capire subito e qualche volta per essere assolutamente impenetrabile è una corsa stremante tra luce e tenebre stelle, lune, soli misteriosi frammenti di edifici regali con mutile, occulte, scritte scrive Manganelli richiamando mi sembra una cosa che diceva Malevich in risposta alle polemiche che seguirono la mostra pietroburghese 010 dove nel 1915 fu esposto per la prima volta il suo celebre quadrato nero l'arte l'arte ha detto Malevich non vi chiede se piace o non piace come non vi è stato chiesto niente quando sono state create le stelle del firmamento questo signore qua è Osip Mandeshtam è un altro straordinario poeta russo del novecento amico di Anna Akhmatova che con Anna Akhmatova studiava italiano per leggere Dante in originale e che diceva che la divina commedia l'intero poema è una sola unica strofa indivisibile anzi non una strofa diceva Mandeshtam ma una forma cristallografica un solido pensate scrive Mandeshtam a un monumento di granito o di marmo il cui intento simbolico si è rivolto non a raffigurare un cavallo o un cavaliere ma a svelare la struttura interna del marmo o del granito medesimi in altre parole immaginatevi un monumento di granito eretto per rendere onore al materiale al granito appunto e in qualche modo per disvelarne l'essenza avrete così un'idea abbastanza chiara del rapporto tra forma e contenuto nell'opera di Dante scrive Mandeshtam cioè secondo Mandeshtam il lavoro di Dante ha come scopo di rendere onore al materiale al granito e il suo granito il suo materiale di Dante era lingua italiana io come dicevo non mi sono mai occupato direttamente di Dante ma la cosa che ho fatto con più più vicina mi hanno che la cosa che ho fatto io più vicina a Dante è un libro che ho scritto per la Bur era la seconda uscita di una collana di classici riscritti da autori contemporanei mi avevano proposto di riscrivere o Machiavelli o il Morgante di Pulci e il Morgante di Pulci era un libro che mi aveva sempre incuriosito ho scelto il Morgante di Pulci ho scritto un libro sul Morgante di Pulci che non è una riscrittura del Morgante non sarei stato capace e non ce n'è proprio bisogno è una rilettura del Morgante che ho trovato un libro comprensibilissimo e incantevole devo dire devo anche dire che dopo l'uscita del mio Morgante di Pulci la colana è stata interrotta ho una certa potenza personaggio che forse ha la voce più singolare più dissonante rispetto a tutti gli altri nel Morgante uno nel contesto specialissimo del Morgante di Pulci che a me ha ricordato il protagonista di quel libro stupefacente che sono le anime morte di Gogol il cui protagonista è il possidente Pavio Livanovic Cicico un signore che non bello ma nemmeno brutto d'aspetto né troppo grasso né troppo magro che non si poteva dire che fosse troppo vecchio però non è che fosse neanche troppo giovane cioè un signore assolutamente medio che non si distingueva in nulla dai suoi contemporanei se non per la sua gentilezza e la sua faccia tosta ecco nel mondo di Morgante che è un mondo di paladini di giganti di re e di principesse di draghi di cavalli di cammelli e di coccodrilli questa medietà è rappresentata da un personaggio che si chiama Margutte che è il nome che si dava nel Medioevo ai fantocci di legno usati nella giostra della Quintana questo Margutte era un mezzo gigante alto sette braccia che si prende il braccio fiorentino corrisponde a 58 cm il braccio lui allora Margutte era alto poco più di 4 metri 8 cm cioè alto più o meno come una giraffa cioè non troppo alto né troppo basso nell'universo di Morgante e conformemente alla sua attitudine di medietà quando Morgante gli chiede dimmi più oltre io non te l'ho mandato se sei cristiano o se sei saracino o se tu credi in Cristo o in Apollino e Morgante gli risponde Margutte gli risponde a dirti il tosto io non credo più al nero che all'azzurro ma nel cappone o lesso o voglia arrosto e credo alcuna volta anche nel burro nella gervogia e quando io ne ho nel mosto e molto più nell'astro che il manguro ma soprattutto nel buon vino fede e credo che sia salvo chi vi crede e credo nella torta e nel tortello l'uno è la madre e l'altro è il suo figliolo e il vero paternostro è il fegatello e possono essere tre, due o uno solo e diriva il fegato al menquello e per chi io vorrei bere con un ghiacciuolo se mi accometto il mosto vieta e biasima credo che sia il sogno la fantasia a me questo che fa un credo che comincia dicendo io credo nella torta e nel tortello io a me mi è simpatico ecco e è tanto più sorprendente la figura e l'enfasi che si posa nel Morgante su Morgante Margutte cioè su due personaggi laterali scalcinati sboccati e deformi e oltre che non nobili non cristiani di nascita e non eruditi tanto più sorprendente è quest'enfasi se si considera che quel poema lì era stato commissionato al Pulci dalla mamma di Lorenzo il Magnifico Lucrezia Tornabuoni e questa cosa mi fa pensare che l'idea di Malevi suale anche nel Morgante e che la legge che guida Pulci nella stesura del Morgante è una legge che non ha a che fare con l'utilità con la corte con il gusto tantomeno con il buon gusto ma con le stelle del firmamento mi viene da dire cioè in un certo senso con l'amore l'amore che muove il cielo e le altre stelle ma non necessariamente l'amore e amore l'amore per una donna l'amore per Beatrice no l'amore per quello che si fa che in un certo senso è un'altra Beatrice secondo me questo bambino qua è un bambino russo nato ad Astrakhan nel 1885 si chiama Vilimir Kliebniko è il poeta su cui ho fatto la tesi e per scrivere il libro su Morgante ho ritirato fuori i miei studi su Kliebniko e ho letto per la prima volta nella mia vita il De vulgari eloquenzia di Dante Kliebniko è un poeta futurista lui diceva di no però era il leader di questo gruppo è stato chiamato cubo futurista ecco e mi sembra che c'entri con vari motivi con Pulci un po' per un fatto secondario se vogliamo perché tutte e due non li volevano seppellire Pulci l'hanno sepolto in terra sconsacrata Kliebniko l'hanno sepolto in un cimitero ma non l'hanno fatto entrare dall'ingresso principale la barra con Kliebniko l'ha fatta entrare da dietro è passata sopra il muro un po' perché Kliebniko e Pulci mi sembra che scrivano delle cose che se le leggi poi ti restano attaccate ti infettano in un certo senso a me di Kliebniko per esempio la sua idea del novecento lui diceva che nel novecento non era più sufficiente il diario ci voleva il minutario e secondo me c'era ragione e io tutte le volte che vado in Russia c'è una poesia brevissima di Kliebniko che dice poco mi serve una crosta di pane un dittare di latte e questo ceno e queste nuvole e io tutte le volte che vado in Russia e vedo il cielo mi viene in mente quella poesia lì e delle volte mi viene in mente anche quando torno a Parma io sono nato a Parma ma sono vent'anni che abito a Bologna quando torno a Parma che è una bella giornata e riconosco quella roba lì che è la roba di cui sono fatto io ecco anche lì è come se Kliebniko mi avesse acceso quella spia lì ecco e e ecco come ho detto prima a me una delle cose che mi piacciono moltissimo del russo è il fatto come ho detto prima che i russi lo capiscono tutti e in russo a me sembra che si possa applicare la principale scoperta della linguistica moderna l'idea della grammatica generativa formulata dal linguista Noam Chomsky alla metà del secolo scorso l'idea che dice che se uno è madrelingua è capace senza bisogno di andare a scuola di riconoscere le frasi grammaticalmente corrette e quelle scorrette cioè dice in pratica che è madrelingua non è necessario insegnare la grammatica basta fargli vedere perché la sanno che è un'idea che a me sembra bellissima e rivoluzionaria ecco questa idea con tutto che mi sembra bellissima e rivoluzionaria io ho l'impressione che abbia almeno un limite cioè il fatto che nel momento in cui Chomsky la enunciava negli anni 50 non si poteva applicare a mia nonna Carmé come ho detto prima perché lei cioè che lei la grammatica non la sapeva cioè che io vorrei chiarire non sono contrario alla grammatica alle grammatiche mi piacciono molto mi piacciono talmente che ho studiato non solo quella italiana ma anche quella del francese del russo e per un po' ho concepito anche l'idea di studiare il finlandese ho fatto anche sette esami di filologia descrivo solo una condizione che ha fatto sì che per decenni la lingua scritta e la lingua parlata in Italia fossero come due territori distinti uno da una parte e l'altro dall'altra e la cosa che a me sembra incredibile è che noi che parliamo italiano oggi nel 2023 siamo tra i primi a trovarci in una situazione dove questa divaricazione questa distinzione è quasi caduta noi ci capiamo tutti gli uni con gli altri il fatto che i nostri accenti e i nostri sintassi l'ordine delle parole nelle nostre frasi indichino abbastanza chiaramente di solito da che parte d'Italia veniamo a me non sembra un difetto ma un pregio della nostra lingua ma al di là di difetti e di pregi non voglio dare dei giudizi voglio dire che oggi leggere Dante Alighieri e Pulci per via del fatto che a un certo momento come modello per l'italiano è stato scelto il fiorentino e che per lui per Pulci e per Dante Alighieri il fiorentino era la loro lingua madre erano capaci di parlarlo senza bisogno di andare a scuola come dice Chomsky ecco questo ha determinato la conseguenza che nel Morgante nella Commedia libri scritti più di cinque secoli fa ci sia la nostra lingua madre così chiara così comprensibile e nello stesso tempo così dicibile così parlabile così ballabile così cantabile e come dice Dante così nobile perché Dante nel De vulgari eloquenza scrive che la lingua volgare è quella che senza bisogno di alcuna regola si apprende imitando la nutrice come ha fatto Puskin dico io abbiamo poi anche continua Dante oltre a questa una seconda lingua che fu chiamata dai romani grammatica questa seconda lingua è posseduta anche dai greci e da altri popoli ma non da tutti poche sono d'altronde le persone che giungono alla padronanza di essa perché non si apprendono le sue regole e non ci si istruisce in essa se non col tempo e con l'assiduità dello studio la più nobile di queste due lingue scrive Dante è il volgare sia perché fu la prima a essere usata dal genere umano sia perché tutto il mondo ne fruisce sia perché c'è naturale mentre l'altra è piuttosto artificiale proprio di questa lingua più nobile scrive è nostro intento trattare e tratta di questi vari volgari nelle vulgari eloquenze per cercare il più bello e poi lo trova mi sembra che sia il fiorentino e interrompe il devulgari eloquenze e si mette a scrivere la divina commedia una cosa incredibile che mi ha fatto notare un mio amico che si chiama Giuseppe Faso è che questo più nobile che il devulgari eloquenze è scritto in latino e in latino è nobilior nelle edizioni a stampa per secoli è stato trasformato dai redattori in più mobile perché i grammatici non potevano concepire che Dante considerasse più nobile i dialetti rispetto al latino e invece era proprio così e per Dante la lingua parlata da mia nonna e dai suoi sedici fratelli e sorelle era la lingua più nobile Dante capiva così bene le lingue che sapeva che quel misero dialetto parmigiano in cui non si usa la parola amore e la parola felicità era una lingua altissima una lingua che per chi c'è nato dentro quando la senti in tal sangue la si estraia e la tocca come una mano sotto la maglia ti si sparge nel sangue e ti tocca come una mano sotto la maglia sono due versi di Renzo Pezzani c'è un poeta di Noventa di Piave che si chiama Giacomo Cazzorzi e che ha cambiato nome ha preso il nome nel posto venato nel Giacomo Noventa e lui quando ha cominciato a scrivere delle poesie ha scritto le poesie in Veneto però anzi sbaglio a dire che le ha scritte le diceva era contrario a mettere per scritto le sue poesie che dovevano secondo lui vivere nell'oralità fino a che a un certo momento non si è accorto che non ce la faceva più aveva la testa troppo piena di poesie un pomeriggio nella sua cucina si è messo a dettare la sua moglie che le trascriveva mi piace moltissimo questa scena delle poesie di Noventa che si trasferiscono dalla testa a un quaderno a righe nella luce di una cucina veneta e una di queste poesie a Noventa la gente gli chiedeva ma perché scrivi delle poesie in dialetto te che sei così intelligente sarebbero così belle le tue poesie in italiano e lui in Noventa risponde con una poesia dove dice perché scrivo in dialetto Dante Petrarca è quel dai dieci giorni che ha più scritto in Toscano seguo l'esempio ecco Dante Petrarca e Boccaccio hanno scelto il dialetto la lingua nobiglio esattamente come Giacomo Noventa e come mia nonna Carmela come qui mi sembra di aver chiarito il legame tra mia nonna Carmela quasi finito mancano due cose all'università tanti anni fa io ho dato un esame di storia della lingua italiana e tra i testi che si potevano scegliere ho scelto un celebre commento di Gianfranco Contini al celebre sonnetto tanto gentile tanto onesta parla la donna mia quando l'altrui saluta ogni lingua deve entra ma ando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare se ho capito bene Contini diceva che quel pare del primo verso tanto gentile tanto onesta parla su quale ironizzano il dice il pare gentile e onesta ma in realtà all'epoca di Dante significa si manifesta è si dimostra io ho quello ecco sono delle cose dei poeti che sentiamo più nostre di altre ecco io ho quell'inizio lì quella descrizione di Beatrice è tra le cose di Dante quella che sento più mia insieme a Papessa Tan Papessa Tan che mi piace a Sgarbati Papessa Tan per la sua forma trasmentale come il bobeo viveomi pieo liei xxx di krebnico e come la lingua saun trasmentale che a me ricorda la conta che facevamo in cortile a Parma quando eravamo piccoli a stamblam femmini cutangali galistiche stucma ringute a pensare a Parma e ai cortili quando ero piccolo mi dimentico una cosa che la dico poi dopo intanto Beatrice ecco Beatrice secondo me sono due almeno le Beatrice di Dante e di tutti noi una è la Beatrice o il Beatore la mia si chiama Francesca io quando parlo in pubblico di lei la chiamo Togliatti perché lei ha studiato storia dell'Unione Sovietica e crede di essere un po' il migliore io mi ricordo io mi ricordo la prima volta che l'ho vista Francesca è stata in 1999 in via San Vitale a Bologna mi ricordo perfettamente il modo in cui vista ho abbassato gli occhi perché Francesca sono delle volte che è così bella che gli occhi non le arriscono di guardare e io ho pensato che io ho un udito buono ma se avessi avuto un udito migliore ottimo in quel momento nel momento di quell'incontro con Francesca con Francesca Beatrice io avrei sentito il rumore degli scambi della mia vita che mi destinavano a un'altra direzione e lei è Beatrice siamo d'accordo ma ce n'è un'altra di Beatrice che è la materia di cui si occupa Dante cioè il granito la lingua e la poesia e io quella lì l'ho incontrata all'inizio degli anni 90 nella biblioteca Gwanda di Parma non mi ha più lasciato e lì c'è una differenza però perché non è una poesia nella mia lingua madre nella lingua nobilior è una poesia in russo io l'ultimo romanzo che ho scritto è appunto l'ho già detto sei o sette volte cioè Anahmato e quello quello prima è un romanzo su Dostoevsky quando ho cominciato a scrivere il romanzo su Anahmato ero preoccupato per la traduzione perché tradurre i romanzi si può ci si riesce tradurre poesia è un po' più complesso si riesce anche quello ma è un po' più complicato mentre scrivo il romanzo ho visto un film di Jim Jarmusch che si intitola Patterson che parla di un autista di autobus che si chiama Patterson e vive in una città americana che si chiama Patterson come 90 ed è appassionato di poesia scrive poesie legge poesie e alla fine del film incontra un giapponese appassionato di poesia e gli chiede se lui il giapponese le poesie dei poeti americani le leggi in inglese o in traduzione il giapponese dice leggere poesia in traduzione è come fare la doccia con l'impermeabile ecco io allora ho pensato si è messi male dopo è venuto in mente l'incontro con l'altra mia Beatrice il ragazzo qua poeta su cui ho fatto la tesi Viedimir Klimico che mi ha cambiato la testa e mi ha dato le parole per decifrare quello che mi succede quando io penso alle due donne più importanti della mia vita che sono mia figlia e sua mamma a me viene in mente l'inizio di una poesia di Klimico che dice le ragazze quelle che camminano con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore perché loro fanno quello e me l'ha detto lui l'altra mia Beatrice io la prima poesia di Klimico della mia vita l'ho letta all'inizio degli anni 90 nella biblioteca Wanda di Parma me lo ricordo perfettamente io ero lì in piedi davanti allo scaffale dei russi ho tirato giù un'antologia di Angelo Maria Ripelino Poeti Russi del Novecento l'ho aperta e ho letto quando stanno morendo i cavalli respirano quando stanno morendo le erbe si seccano quando stanno morendo i soli si spengono quando stanno morendo gli uomini cantano delle canzoni e lì anche lì io ho un udito buono ma se avessi avuto un udito migliore in quel momento nel momento dell'incontro con Klimico io avrei sentito il rumore degli scambi della mia vita che mi destinavano a un'altra direzione lì è cambiata la mia vita e io devo dire avevo l'impermeabile avevo letto una poesia in traduzione io nel 1999 a 36 anni quando ho conosciuto Francesca mi sono trasferito a Bologna e poi nel 2005 avevo 42 anni per un anno sono tornato a abitare a Parma ci eravamo lasciati con Francesca e ho ritrovato una luce per le strade di Parma a una certa ora del giorno che ci sono dei momenti che ti sembra di nuotare nella luce e la cosa incredibile è che era la luce che quando ero un bambino erano le due del pomeriggio che uscivo dal portone dall'androne buio del condominio dove abitavo e aprivo il portone e entravo nella luce che era tempo le due del pomeriggio fino a sera e spazio la via Montebello in qua tutto il quartiere e lì tutti i giorni la promessa era così grande che mi viene da piangere a pensare cieco Dante quella luce lì in Firenze è stato condannato a perderla per tutta la vita e mi sembra di capire bene quel che a Dante dice cacciaguida tu lascerai una cosa diretta più caramente e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui e come è duro calle lo scendere e salire per l'altrui scale ecco è duro calle scendere e salire per l'altrui scale Osip Mandeshtam poeta che abbiamo visto prima grande amico di Anahmato e che con lei come vi hanno detto studia Dante per leggere studia italiano per leggere Dante in originale una volta erano in giro a Leningrado loro due lei declamava Dante in italiano Mandeshtam è scoppiato a piangere e ha detto mi scusi la sua voce Pietroburgo e Dante tutte e tre insieme è un po' troppo di Mandeshtam Anahmato diceva che quando leggeva ad alta voce le sue poesie nel cabaret Il cane randaggio nella piazza delle arti di Pietroburgo era come se si fosse alzato in volo un cigno ecco Mandeshtam ha dedicato a Dante un discorso che si intitola Rasgavora Dante conversazione su Dante nel quale dice delle cose molto interessanti anche sulla lingua italiana che è secondo Mandeshtam la più dadaista delle lingue romanze con una grande fama versificatrice un appetito animalesco da adolescente per l'armonia e un desiderio sensuale di rima con una fonetica puerile un infantilismo bellissimo che generano un balbettio melodico che riconduce a un dadaismo originario e si chiede Mandeshtam in quel saggio quante suole di cuoio quanti sandali ha consumato Dante per scrivere la Divina Commedia e questo per me io se penso a Dante penso a questa immagine ai sandali che ha consumato perché Dante per me Dante faceva un lavoro intellettuale solo che questa parola intellettuale questa è un'altra delle parole che non riesco a capire mia nonna Carmela non ce l'aveva nel vocabolario la parola intellettuale e forse per quello Dante per me non è un intellettuale Dante per me è fatica Dante per me è duro calle è scendere e salire per l'altro scale è consumare dei sandali e può essere un intellettuale per me solo nel senso che diceva Josip Brodsky un altro grande figlio dell'esilio e quando gli chiedono qual è il ruolo dell'intellettuale dove rispondere scrivere delle cose belle e qui finiva il mio discorso su Dante pronunciato dalla biblioteca classiense di Raven 10 ottobre 2023 in occasione del 702 annuale di Dante ecco abbiamo cominciato a dicere cosa servono i russi che bella domanda forse ho trovato la risposta forse ho capito cosa mi servono i russi a parlare di Dante e di qualsiasi altra cosa grazie grazie grazie